Alto Molisani castigati dall'ex Agnone Termoli, Andrea Sivilla che dopo appena 60 secondi trafigge l'incolpevole Petriccione, difesa infilata con troppa facilità, bravo e cinico Sivilla che indi fa ancora la differenza. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Calemme che lavora un buon pallone ma poi calcia alto. Dall'altra parte un altro vecchietto, Borrelli prova a mettere paura ai gialloblu dimostrando di essere ancora in forma. Verso lo scadere del primo tempo, contatto in area laziale per il direttore di gara, non ci sono gli estremi per il rigore. Con le immagini andiamo nella ripresa, il vasto Girardi non è fortunato e lo si capisce da come si conclude quest'azione. La palla viene deviata dalla difesa ospite e finisce sul palo. Ci prova poi l'eterno Ruggeri sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma la mira dell'esperto centrale è da rivedere. Ma l'occasione più ghiotta per raggiungere il pareggio capita sul sinistro di Gallo che da posizione invidiabile conclude così. Il gol mancato è la fotografia esatta del momento del vasto Girardi che gioca ma non segna e compromette così una classifica che fino a qualche domenica fa era scintillante.